Ciao a tutti, sono Martina Alzini, ho 15 anni, sono allieva secondo anno e anche quest'anno difenderò i colori dell'ESC Cesano Maderno. Ho molti obiettivi per quest'anno, visto che l'anno scorso anche a causa di una malattia non ho potuto dare in tutta la stagione il meglio di me, ho comunque conquistato, sempre mai ESC Cesano Maderno, un titolo tricolore nella specialità in pista del Keirin. Quest'anno, come ho detto prima, ho molti obiettivi, soprattutto in pista, non voglio svelarvi niente, magari mi porta sfortuna e comunque per ora inoltre mi alleno con la nazionale italiana sul velodromo Falsabortolo di Montichiari. Seguite un po' la nostra stagione, come andrà nel bene o nel male e seguiteci su V-Cycling.